Buongiorno Gossip Girls, è lei, è proprio lei Barbara D'Urso, calice in mano, 57 anni con l'amica Angelica che si diverte a ballare in giardino. Ragazzi, che bella donna e come si muove bene, c'è proprio da dire che gli anni non passano per lei, wow! Qui si fa il famoso colpettone con le patate di Angelicuccia, è la pizza di scarola di Angelicuccia che ormai viene fermata per strada ovunque. E qui si cucina. Cosa stai facendo Denise? Le patate a rondelle. Patate a rondelle? Mamma mia come parla l'italiano. Da quanti anni sei con me Denise? Sei sei anni. Solo sei anni? Solo sei anni? No, sono tante. Quanto vuoi bene a me? Molto bene. Molto, molto bella la mia Denise! Fai patate a rondelle, fai. Fai patate a rondelle, 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 fai patate a rondelle. Grazie a tutti.